Forse 1 Vittorio Franco quando riuscì la russuoto, forse 2 Regno Pellecchia la russuoto, forse 3 Alessio Martelli, Fiamme Oro, forse 4 Manuel Lennaro e Sport in Toria, forse 5 Lissi Ancarella, forse 6 Nell'Empitrazio, Bichin Plett, forse 7 Nella Vedevito, Fiamme Oro, forse 8 Ivan Corsetti e Lennaro, forse 9 Francesco Socca, Fiamme Oro. E alla 3 pure, 7 e 6, lui però sta a 7, sì sì, debito sia alle 7. Guardi Romano! Guardi Romano! Guardi Romano! è uscito da fatto così, sta a fare una bella gara, bella virata bravo, guarda come stasci bene, guarda speriamo che tenga così per altri 100 è 4, è 4, è 4, è 4 è 4, è 4 si è arrivato quarto, è stato quarto con 1,15 e 53 sta ripiando però, sta ripiando, sta ripiando vai, ma che due stanno un po' per morire, vai sta un po' primo con 0, è te prima o è quarto? è avvicinato dai dai dai, fai una bella scivolata cacchio vai vai, porca patta, quello sta riciclando di tagliere? guarda, giocano proprio, con quello da 0 se lo giocano a 0 sta avanti, sta avanti vai 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 sta avanti, dai da recuperare il primo dai dai, dai, non succede, dai primo secondo, terzo bravo bravo si, c'è la povertella, Adri stai arrivando insieme guarda, non si fa tutti i passi grazie grazie grazie